Musica Questa pandemia ci costringe a interrogarci sul valore, sul senso della vita in quanto ha fatto risvegliare dentro di noi un sentimento comune che pensavamo fosse sotterrato, o meglio, che fosse morto, che è il sentimento del bisogno San Donato e tutti i santi sono avvocati, apprezzano noi noi dobbiamo pregare a Dio, però i santi gli aiutano come avvocati di mezzo alla società di Dio Con tutte le città di San Donato, che sono tante i comuni che hanno San Donato come patrono vi invito a vivere bene questi momenti e questi momenti di gioia L'epoca del coronavirus in fondo ha fatto emergere la centralità della terra e mi spiego meglio, è stata l'occasione per sensibilizzare sul valore del patrimonio ambientale e non è certo un caso come la difesa dell'ambiente passa anche dalle buone pratiche dalla buona gestione, dall'amore verso la terra e quindi bisogna rivalutarlo Donato santo, di noi sei padre guida, sicura si confida a te questa città